Abbiamo guardato le prese, le prese da davanti, le prese da dietro, non abbiamo ancora guardato la presa laterale. La presa laterale, ok, è in una situazione, ok, chiaramente io ho sempre la possibilità dell'utilizzo della mano vuota, ok, il vuoto, la cosa più importante, sapere utilizzare il vuoto. Qui non ho vuoto, ok, qui non ho vuoto, c'è un vuoto qua, quindi posso colpire qua, posso riportare la gamba qua, posso tirare su, posso eseguire di nuovo tecniche, posso deliberarmi. Un'altra di queste possibilità che ho è creare a lui che mi sta tenendo un movimento a cerchio, in modo tale che lui sforza il movimento a cerchio di conseguenza, per poi dopo uscire, ok, in linea diretta, diretta. Quindi da lui che mi sta tenendo stretto, ok, io creo a lui un movimento circolare, lui fa a sua volta un movimento circolare, per poi dopo uscire in linea diretta, ok?